I momenti di desolazione spirituale accadono a tutti e dobbiamo pregare il Signore perché ci dia la grazia di riconoscerli, la grazia di pregare quando siamo sottomessi alla desolazione e anche quella di saper accompagnare chi soffre questi momenti brutti di tristezza, senza discorsi ma con vicinanza e carezze. Così Papa Francesco nell'Umedia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato lo sfogo di Giobbe inserito nella liturgia. Maledetto il giorno nel quale sono stato concepito, grida il profeta. A tutti noi capita, ha spiegato il Papa, e non aiuta a prendere una pastiglia per dormire e allontanarmi dai fatti. La prima risposta al buio interiore è la preghiera, come quella del Salmo 87. È una preghiera di bussare alla porta ma con forza. Signore, io sono sazio di sventure. La mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forza. Quante volte noi ci sentiamo così, senza forza. senza forza. E questa è la preghiera. Lo stesso Signore ci insegna come pregare in questi brutti momenti. Signore, mi hai gettato nella fossa più profonda. Pessa su di me il tuo forore. Giunga fino a te la mia preghiera. Questa è la preghiera. Così dobbiamo pregare nei momenti più brutti, più oscuri, più di disolazione, più scacciati, che ci scacciano proprio. Questo è pregare con autenticità. E anche sfogarsi come si è sfogato Giove con il figlio. Come un figlio.